Bentornati addetto. Io sono Valentina e lei è la nostra amica? Giorgia. Allora Giorgia, ho pensato che siccome la nostra Barbie vuole andare in vacanza quest'anno, di preparare una bella valigia per mettere all'interno tutti questi vestiti. Ti va? Sì. Ok, cominciamo. Adesso rivestiamo la nostra valigia. Adesso inseriamo il gancetto per il trolley. Adesso pieghiamo i vestiti della nostra Barbie. Adesso inseriamo i bottoncini come ruote per il nostro trolley. E questo è il trolley della nostra Barbie, pronta a partire per le sue vacanze. Provateci anche voi. Giorgia, ti sei divertita? Sì. È divertente fare queste cose per le Barbie, vero? Sì. Provateci anche voi. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Detto Fatto. Ciao!